Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session su Bitcoin con analisi evoluta di lunedì 18 settembre. Sono le 22.19 e che cosa è successo nell'ultimo periodo? Come sapete siamo andati in violazione di questo massimo e quindi siamo andati a farci un bel gain con un long. Siamo ritornati sopra questo massimo come vi ho già illustrato nella scorsa analisi. Ed era quello che vi raccontavo per la chiusura di un mensile inverso, un trimestrale inverso. Ci serviva un T settimanale inverso vincolato a ribasso e quindi salita di prezzi. E poi come vi ho raccontato anticipando quello che avremmo valutato di fare, come di consueto per main paper, per chi è nel gruppo premium, come desidera, siamo andati a target a 26.999 dollari. Tra l'altro non è che ci siamo fermati lì. Perché? Perché la cosa divertente è che quando siamo andati a target, a che candela eravamo ancora? Alla 23esima. Per cui ho iniziato a dire di mettere il take profit qui, per cui qualcuno è stato eseguito in chiusura, qualcun altro è andato ancora a farsi un gain successivo. Perché sappiamo tutti che a volte ci sono dei cicli giornalieri da 23 barre. Ma noi siamo arrivati sulla media mobile a 50 periodi. Non ci siamo fermati al target dato a 26.999 dollari dato un po' di tempo fa. No? Ok. Questo era quando è scattato. Perfetto. 16.21. Quindi potete controllare anche tutti gli orari, come di consueto. Per questo motivo, altro trade, altro paper trade per me. Ok? E siamo arrivati a fare 18 su 20 in paper trading con il T2 e siamo a 5 operazioni su 6, ok? In gain su bitcoin. Abbiamo ricominciato, ho sbagliato, dovrei riprendere da dove eravamo finiti per andare a fare quello che facciamo sugli indici. Fa lo stesso. Adesso ricucerò un attimo le cose. La cosa che mi interessava era farvi vedere come di consueto che quello che ho detto nella scorsa analisi e in quella precedente, di nuovo, ha funzionato. E le motivazioni, soprattutto, per le quali vi ho dato determinati movimenti, target e quant'altro. Target minimo era questo. Ok? Ci hanno portato a movimento perfetto, fatto nei tempi corretti e ci siamo girati esattamente quando indicato con il tecnica 2, peraltro. Ok? Parlino sempre i fatti per i trader. Come sapete, ho oltre 6 anni di trading, tra poco saranno 7, oltre 2500 video solo di trading in cui mi espongo per raccontare che cosa mi aspetto da mercati, indici, asset vari e criptovalute. Per cui, chiunque può comprendere se sono un analista e trader valido o meno, da tutto lo storico che ho, oltre 6 anni, tra poco 7. Anche perché le parole dicono chi vorremmo essere, mentre invece i fatti dicono chi siamo in realtà, o chi siamo nella realtà dei fatti. Ritorniamo noi. Ok? Quindi, inverso. 34 barre, entro le 44 massime abbiamo iniziato a scendere, quando è scattato il tecnica 2 ci sono venuti conto con 2 barre, non hanno toccato ovviamente lo stop loss che era di sopra di questo massimo, e poi sono venuti giù come il piombo e sono andati a target. Ok? Ci basta questa come condizione necessaria e sufficiente per chiudere non soltanto un trimestrale, ma tutto quello che sapete? La risposta la sapete dalle regole. D'inverso, adesso abbiamo fatto che cosa? 10 barre più questa undicesima sotto un massimo, sotto questo massimo assoluto a 27.452 dollari, e adesso dobbiamo vedere che cosa fare, quale sarà il prossimo trade da gestire. Perché? Perché qui come vi avevo già raccontato, lato indice, la condizione per la chiusura ce l'abbiamo. Qui mancano 2 barre sopra questo minimo per far partire almeno solo per il tempo, non per gli swing, un settimo di meno 3. E quindi dobbiamo comprendere come muoverci. E quindi che cosa faremo, come di consueto? 1. Iniziamo a mettere un allarme sotto questo minimo 26.662. 26.662. Ok. Short, punto di domanda. Anche perché non abbiamo gli swing che ci raccontino cosa può succedere. Tra l'altro, come potete vedere, mi è testimone anche l'allarme. Allarme creato il 18 settembre alle 16.41, è attivato alle 19.25, quando siamo andati in gain. Ok? 19.25 fa parte di questa barra da 45 minuti che inizia alle 19.15. Fatti. Ok? Messo questo allarme, dovremmo mettere anche un allarme qui sopra, per sicurezza. Ok? Però iniziamo a ragionare su una cosa. Se qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere non soltanto un settimanale, ma fino a un trimestrale di inverso, che cosa può succedere da adesso in avanti? Perché sarà una cosa su cui ragionerò nella live appunto di House of Trading di domani, dalle 17.30 in avanti. Ci saranno tutti i ragionamenti per comprendere come muoversi non soltanto nel breve periodo, ma anche nel medio periodo. Perché con un trimestrale inverso, con una condizione di chiusura, e con un tempo sotto un massimo, si possono preparare tanti trade anche a medio periodo. Ok? Qui abbiamo già idea di che cosa può essersi chiuso, ma attenzione! Sulle candele giornaliere, a livello di candele giornaliere, a quanto siamo di questo settimanale inverso? Siamo alla decima, sul massimo 11, siamo all'undicesima, perché vari cicli sono durati più di un ciclo giornaliero, e più delle 24 ore, perché può capitare ovviamente con 44 barre da 45 minuti, si può andare oltre le 24 ore. A che punto siamo? Primo punto di domanda su cui ragionare. Il secondo punto di domanda su cui ragionare, che è fondamentale, solo fondamentale, è Ok, da qui è partito il nostro T settimanale, è partito lunedì 11. Da 11 a oggi che siamo a 18, sono passati 7 giorni. Un ciclo T settimanale rialzista per adesso, a livello di tempo puro soprattutto, a che cosa può dar vita? Se conoscete le regole date dall'analisi ciclica di base più l'evoluta, o se avete fatto il corso, fatto da oltre 29.700 persone, sapete dare una risposta molto semplice. Se non la sapete dare scattando, tra virgolette, meglio ritornare a studiare. Con un T settimanale, facciamo partire che cosa? Abbiamo la condizione necessaria e sufficiente, una delle due, per far iniziare un mensile nuovo, lato indice. A noi cosa servirebbe però far partire, teoricamente, se ragionassimo sempre di cicli a quattro tempi o a due tempi? perché questa è la domanda che bisogna farsi e bisogna porsi. E quindi bisogna chiedersi, per quanto tempo siamo, tra virgolette, obbligati a rimanere sopra questo minimo, anche lateralizzando, continuando ad andare così, fare questo segmento per i prossimi tot giorni? quanti giorni ci servirebbero per far partire qualche cosa di più grosso? E ci serve, siamo obbligati a vedere qualche cosa di più di un T più 2 partire a livello di indice? Perché domani, nella live di House of Trading, avrete tante risposte a tutte queste domande e faremo tanti altri ragionamenti insieme. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e con un trade in reale è andato estremamente bene e in un paper trading, oppure reale, per chi si fida della tecnica 2 che noi stiamo ancora sperimentando in paper, e quindi un 2 su 2, che sia uno paper, uno reale o due reale, direi che possiamo chiudere questa serata e questa night session. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata, torno a, anzi, vado a finire di vedermi Bones and All. Spero che ci sia un degno finale a questa vicenda, devo dire interessante, per vari aspetti. Buona serata a tutti!